Il valore aggiunto della carne valgostana è il gusto. Tutta la storia della macelleria Peachè è nata da mio bisondo che ha insegnato mio papà a macellare, a lavorare la carne e poi da lì, assieme a mio zio Martino, ha portato avanti per 52 anni questa tradizione. La caratteristica della macelleria Peachè è appunto quella di cercare di seguire tutta la filiera. Dunque abbiamo anche noi il nostro allevamento dove seguiamo i nostri animali. Non ci sono segreti, basta gli animali trattarli bene, allevarti bene, con la giusta alimentazione e dargli il giusto periodo di frullatura alla carne e poi la carne valgostana è competitiva con tutte le altre. Buongiorno! Allora, devi farlo cuocere almeno un'ora e mezza, anche due ore. Consigli che cerchiamo di dare principalmente sono i tempi di cottura, chiaramente la carne valgostana ha bisogno di tempi di cottura leggermente diverse che altre carni e poi le minime basi della cucina. Grazie a lei, buongiorno!